Eeeh ciao a tutti amici di youtube, sono sempre io Fabio ed oggi prima di iniziare l'argomento del video dovete indovinare il titolo del mio manga o anime preferito che ho impostato come sfondo del desktop. Riuniti tutti quanti sono 16, 16 bellissimi capolavori che riguarderei l'hop infinito, finora ne abbiamo visti diversi, alcuni sono estremamente intuibili, altri possono risultare davvero particolari, perciò fatemi sapere nei commenti la vostra risposta, chi risponde in maniera esatta verrà menzionato in questi video e se eventualmente ha un canale youtube o un altro profilo social lo pubblicizzerò. In questo video come nei successivi analizzeremo nel dettaglio iobit, software house molto affermata nell'ambiente windows grazie a numerosi programmi per la pulizia, la deframmettazione e l'aggiornamento del pc. Prima di iniziare la recensione voglio proporvi questo sito Together Price dove se vi ricordate ne ho dedicato un video tempo fa, in sostanza è una piattaforma per la condivisione di spese di abbonamenti digitali come Netflix, Spotify, Apple Music, Nintendo Switch Online, Xbox Live e che più ne ha più ne metta, il bello è che ci sono anche altri tipi di abbonamento come quelli dedicati ai software antivirus, suite di fogli elettronici come Microsoft Office, suite per la cura del pc come quella di iobit e tanti altri. Non siamo poi soli, c'è la possibilità di creare il nostro gruppo diviso per ambito di appartenenza tra amici, coinquilini, colleghi di lavoro, familiari, in modo da dividere la spesa per pagare un determinato servizio. Una volta formato questo gruppo è possibile comunicare con una live chat e appunto raccogliere le quote di ognuno mese per mese. Insomma vi consiglio di darci un'occhiata ragazzi, spendiamo ormai troppi soldi per tutti questi bei abbonamenti, sarà il caso di risparmiare qualcosa a fine anno. Maggiori info le trovate nella descrizione di questo video con i relativi links per collegarsi, approfittatevene perché in questo momento c'è in corso una promozione allettante, come detto prima trovate anche la recensione da me fatta. Tornando all'argomento del giorno essenzialmente ci consente di analizzare e rimuovere tutti i possibili malware presenti nel sistema operativo. Per chi non lo sapesse il malware è un programma usato per rubare di nascosto informazioni di vario tipo senza essere rilevato dall'utente anche per lunghi periodi di tempo. Può essere creato anche con l'intento di arrecare danni ad un sistema informatico, spesso tramite sabotaggio, oppure può criptare i dati del computer della vittima, essorcendo denaro per la decriptazione. Per concludere la breve spiegazione, vi lascio in aiuto Wikipedia in descrizione, il malware non è un tipo di elemento, ma si differenzia in varie tipologie, inclusi virus, worm, trojan, ransomware, spyware, hardware, scareware e altri programmi malevoli. Quindi sarà il caso di proteggersi costantemente da questi tipi di files e qui ci viene in sostegno questo applicativo targato iobit che compie tutto il lavoro egregiamente. Una volta installato il programma vi consiglio, se ne siete naturalmente in possesso, di mettere la chiave di licenza per poter usufruire di tutte le funzionalità. Non ve le sto a spiegare una ad una, ma qui avete la tabella delle funzioni PRO comparata a quelle gratuite. E come vedete di differenze ce ne sono. Come primo avvio il programma ci consiglia di effettuare una scansione. Noi eseguiamola per vedere che risultati dà. La scansione è iniziata alle 17 in punto. È finita questo minutaggio qui. Naturalmente va in base alla quantità di dati memorizzati nel disco. All'inizio della scansione avrete notato questi cinque passaggi. Quello che ci ha messo maggiormente il penultimo, ovvero il registro. E poi la cosa alquanto strana è che durante la scansione si sono avviati automaticamente diversi programmi. Però solo quelli iobit. Questo non riesco tanto a spiegarmelo. Inoltre si è aggiunta alla barra dell'applicazione il collegamento di driver booster. È come se la scansione stessa abbia reinstallato questi altri applicativi. Comunque, ultima cosa da notare è l'avviso sull'ultimo passaggio. Nel mio caso non ho attivato il motore Beat Defender e di conseguenza me lo ha fatto notare. Andiamo avanti. Se preferite utilizzare una scansione più seria, profonda, nella seconda voce presente nel menu avete disponibili tre modalità. Veloce, completa e personalizzata. Nella veloce direi non c'è da specificare nulla. Semplicemente scansiona le cartelle più importanti, più vulnerabili e meno radicate. Invece la completa esegue la scansione per tutti gli elementi che ha il sistema. E per ultimo la personalizzata consente di escludere determinate cartelle o di lavorare in un determinato file o un gruppo di essi. Da notare che in basso sono presenti due bottoni. Uno per visualizzare la cronologia di tutte le scansioni effettuate, l'altro per impostare una scansione automatica tramite le impostazioni che vedremo sicuramente dopo. Passiamo alla terza voce del menu che riguarda il motore Anti Ransomware e la cassetta di sicurezza. La prima funzionalità ci consente, se attiva, di tenere sotto controllo delle determinate cartelle di estensioni di file dal pericolo del ransomware, un tipo di malware che limita l'accesso del dispositivo richiedendo un riscatto da pagare per rimuovere la limitazione. Un po' come ho detto prima. La seconda funzionalità invece protegge la privacy e i dati sensibili da accessi non autorizzati in sostanza è un blocco con password in maniera da consentire l'accesso solo ai conoscenti di tale protezione. Mi piace il fatto che si possa registrare un'email in modo tale che, se si dimentica la password, quest'ultima può essere recuperata tramite messaggio di posta elettronica. Passiamo ora alla quarta voce del menu che riguarda varie impostazioni per il browser. Sono funzioni che abbiamo già visto nel video dedicata ad Advanced System Care, quindi non mi ci soffermerei troppo. Quelle da segnalare sono, senza ombra di dubbio, l'antimonitoraggio per eliminare i cookie quando il browser viene chiuso e la scansione dei file scaricati, inclusi, come dice qui, gli allegati di posta elettronica, dove è lì, secondo me, la sorgente dove è più possibile imbattersi con un malware. Passiamo alla penultima voce, guardia di sicurezza. È una specie di pannello che riassume tutte le principali funzionalità viste finora. Ci viene indicato prima di tutto in che modo il sistema è protetto. Come vedete c'è la segnalazione che l'anti-malware è abilitato e il Bitdefender no, quindi è l'occasione per attivarlo. Sotto ci sono tutti gli interruttori che consentono di applicare o meno tutte le protezioni, partendo da quella della rete fino ad arrivare alle azioni dannose. Come ultima voce presente in tutti gli applicativi iobit è il centro azioni dove è possibile avere una panoramica degli altri software sviluppati dall'azienda. In questo caso li ho installati quasi tutti, alcuni li avrete già visti nei precedenti video, altri li vedremo nei prossimi. L'ultimo sguardo diamolo nelle impostazioni. Magari vi posso dare qualche consiglio su come configurarlo al meglio. Allora, nella pagina delle opzioni generali direi di lasciare tutto com'è. L'unica cosa per me abbastanza ambigua da tenere attiva è il caricamento del programma all'avvio di Windows. Se siete pigri lasciate l'opzione abilitata, altrimenti lo avviate manualmente voi il programma. L'interfaccio utente è completamente soggettiva, io lascio tutto di default. Nelle opzioni di scansione direi di impostare una priorità alta, così siamo sicuri che trovi di tutto e di più. Per il resto lasciamo lì com'è. La scansione automatica l'abbiamo menzionata prima, attraverso, se vi ricordate, il bottone presente nella seconda voce del menu. Anche qui è completamente soggettiva la cosa. Le due liste, dove la prima ci consente di aggiungere quei files e cartelle dove siano sicuri che sono virgini e quindi non hanno bisogno di controllo, e lista quarantena dove verranno mostrati tutti i malware o gli elementi coinvolti messi in isolamento, pronti per essere distrutti o al limite ripristinati. Opzioni di protezione, qui lasciamo tutto alla normalità. Azioni memorizzate consente di creare una lista dove poter mettere tutti quegli elementi da far controllare in un successivo momento. Aggiornamento automatico, lasciate vivamente la seconda opzione che aggiorna tutto in background, sia il programma che il database. In notifiche ho notato che è poco necessario tenere attiva l'ultima voce, mostra notifica quando il file è scaricato e sicuro. Direi che è più necessaria la segnalazione di quando risulta pericoloso il file. La modalità silenziosa fa agire il programma in background evitando di far comparire notifiche di vario genere, così possiamo rimanere concentrati sul lavoro che stiamo svolgendo e i rapporti dove vengono visualizzati i log salvati. Potremmo impostare un limite di essi, a me non servono, perciò riduco la cifra a 5. E se la maggior parte delle opzioni vi sembrano poco chiare e non siete sicuri di attivarle o meno, c'è il comodo bottone a sinistra che consente al programma di impostarsi da solo, così possiamo star tranquilli. Bene, penso non ci sia altro da aggiungere. Per esperienza personale consiglio il software a chi naviga molto sul web e frequenta siti non standard, non comuni. Ad esempio, se sono abituale nel collegarmi a YouTube per visualizzare video, spero i miei, e Facebook per parlare con i propri amici e il sito dell'ANSA per rimanere aggiornato sulle ultime notizie, non vi serve questo tipo di software. Altrimenti, se accedete spesso a siti piccantelli, illegali, fatti male o molto accessibili, allora è il caso di installare Malware Fighter. Per finire, mi ricollego ad un concetto che ho espresso prima. I malware si trovano facilmente nelle mail. Ormai, dando tutte queste informazioni alla società, sicuramente qualche malintenzionato prima o poi conosce la nostra email e non vede l'ora di fare qualche brigantaggio. In descrizione vi lascio tutto l'occorrente per poter capire al meglio il software e soprattutto scaricarlo. Ricordatevi di visitare il sito che vi ho proposto ad inizio video, Together Price. Noi ci vediamo ad un prossimo video.